Non si può mai essere contenti di una sconfitta, però voglio dire, siamo stati dentro una partita dai play-off fuori casa, arrivando a un tiro per vincerela contro una squadra come Cantù che ha sette stranieri, tre nazionali e mazzarini, perciò davanti a questo mi fa ben sperare, solo che un primo tempo molto moscio come atteggiamento, c'era proprio differenza di atteggiamento tra le due squadre, secondo il tempo un pochettino meglio, poi alla fine ci sono piccoli episodi, in casa avevamo fatto 12-12 l'ultimo quarto, poi abbiamo fatto qualche tiro libero, sai ci sono situazioni che girano, la palla è rotolata in mezzo, che è caduta in mezzo a Brux, scivolata dalle macchie, però la palla canestra è fatta così, però sono arrabbiato perché abbiamo perso, però ho visto la mia squadra che come nelle altre partite ha dimostrato questa voglia di continuare a crederci sempre, l'abbiamo già fatto nella regola season e vogliamo continuare a farlo, l'atteggiamento al di fuori del risultato che può essere positivo o negativo. L'ultimo tiro era quello? L'ultimo tiro era la situazione di Travis o Coso o di Drake che arrivava in cui poi Vannunzo si allargava, però è arrivata la palla in mano a tre giocatori che hanno le mani buone e sono stati però anche loro a bloccarsi l'ultimo tiro. Hai creduto poco nella prima volta che hai fatto la zona perché l'hai morata subito, poi invece nel finale ha pagato molto. Sì, l'abbiamo fatto in un modo diverso onestamente perché avevo paura di certi tipi di gioco e invece alla fine siamo tornati a fare la classica. domani? Domani è un altro giorno. Hai recuperato molto con il quintetto che ti piace tanto, con Manuel numero 5? Eh, lo so, però sai poi alla fine appartisce un po' di imbalza, questa cosa qua l'abbiamo fatta anche per molto tempo, però alla fine poi loro hanno rimesso dentro uno come Taius e il sottocanestro, poi la fisicità alla sua parte. Gordon ha fatto il terzo fallo in attacco, è stato sanzionato di rischio di tecnico in queste partite qua, a prendere in quelle situazioni un tecnico può veramente decidere la partita. Sono altre cose? Forse così, grazie mille. Grazie a me. Grazie. Grazie.